Linda, pronto Linda! Mi sente? Mr. Brake! E lei l'ultimo sopravvissuto? Mr. Brake mi dia le ultime istruzioni. Pronto? 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 Linga esploda, ci mancava solo questa Pronto, pronto, pronto Chi parla, parla il fruttogliano Ma che deficiente, che talato Che cosa sta dicendo Loro cosa E non mi dimenticate che ho una NITOR AIROT VICE D'INTERSPACTIO NITOR AIROT VICE D'INTERSPACTIO NITOR AIROT VICE D'INTERSPACTIO